Un saluto agli amici del Monti.com, oggi siamo qui a fare un'intervista in una bellissima giornata di sole nel nostro borgo di Lazzate, siamo qui nella sede della Lega Nord di Lazzate insieme a una cara amica, nonché militante della sezione della Lega di Lazzate da tanti anni, assessore uscente, stiamo parlando di Loredana Pizzi che conoscete tutti perché è la candidata della Lega Nord a sindaco di Lazzate per queste elezioni amministrative 2013. La prima domanda che volevo fare a Loredana era un po' le impressioni, visto che ha vissuto ormai qualche giorno dall'annuncio ufficiale che c'è stato la scorsa settimana, come ha vissuto questi giorni da candidato sindaco di Lazzate? Non nascondo che sono molto orgogliosa innanzitutto di aver accettato questa candidatura che mi è stato proposta appunto dai miei amici della Lega, della sezione della Lega di Lazzate, nonché della giunta uscente, si è arrivati a questa decisione diciamo quasi naturalmente, per cui di questa sono contenta. Che dire, dall'altra parte sono anche un po' non dico preoccupata, ma insomma un po' di tensione per quello che mi aspetta, se dovessi naturalmente vincere le elezioni non nascondo appunto di essere un po' preoccupata, però vabbè insomma ho una buona squadra, avrei una buona squadra dietro, quindi non ho paura in questo, siamo un gruppo molto unito, quindi confido molto sulla squadra. Le preoccupazioni direi che forse sono di due tipi, una sicuramente è quella di dover proseguire raccogliendo un'eredità importante perché Lazzate negli ultimi vent'anni è stata amministrata in maniera straordinaria, certo c'era una figura importante come l'ex sindaco Cesarino Monti, ma come ricordavi tu c'era comunque una squadra che in questi vent'anni insieme Cesarino ha fatto rinascere un borgo, un comune, un'intera comunità e il secondo aspetto di preoccupazione è sicuramente quello della salute della finanza locale che è messa diciamo in forte pericolo e rischio dalle politiche del Stato centrale che continuano a tagliare risorse. Ecco in questo contesto si è dovuto scrivere e mettersi a scrivere un programma di mandato quindi per i prossimi cinque anni con numerose incertezze. Allora siccome io ho qua davanti il programma che abbiamo, almeno la sintesi del programma che abbiamo distribuito, poi il programma completo lo potete trovare linkato sulla nostra pagina facebook e sul nostro sito internet www.legalazzate.org slash programma.pdf Ecco appunto dicevamo programma, qual è o quali sono le prime priorità che se dovesse vincere Loredana Pinzi come sindaco e la squadra di Cesarino fronteranno per l'azzate? Allora premetto che Cesarino ci ha lasciato una grande eredità, una pesante eredità direi, una bella eredità perché noi abbiamo un paese bellissimo, è stato appunto rinnovato, ci sono i fiori sulle finestre, insomma le strade sono pulite, non ci sono le buche, ecco questa è diciamo qualcosa che Cesarino ci ha lasciato e che noi abbiamo il dovere, che perlomeno mi sento il dovere di portare avanti e di tenere e di continuare perché tutto possa essere come prima, questa per prima cosa. Naturalmente i problemi economici, i limiti che lo Stato ci pone per quanto riguarda i finanziamenti, sappiamo tutti che i comuni purtroppo hanno queste difficoltà, però nel limite del possibile vedremo sicuramente di dare molta attenzione alle famiglie, alle commercianti, alle imprese, questo cercando con le poche finanze che purtroppo ci arrivano da Roma, comunque di non far mancare quello che abbiamo avuto finora insomma. Io aggiungerei non solo le poche finanze, ma addirittura all'incertezza perché è proprio di questi giorni, le cronache di politica di questi giorni ci dicono che lo Stato, anzi il nuovo governo avrebbe deciso di far saltare la rata di giugno dell'Imu, però solo per la prima casa e molto probabilmente questa però si pagherà a settembre, quindi è un po' l'italiana, si fa la politica del ci pensiamo domani mattina come se posticipare i problemi significasse risolverli, ma la cosa che ci allarma anche come l'Azzat è quella però che al di là della prima casa che può essere prorogata, l'Imu per i negozi, commercianti, capannoni anche se sfitti, viene comunque confermata, questo sicuramente è un problema che magari da Roma sentono poco, ma in una comunità come l'Azzat, in una realtà come quella di un comune, una giunta, un sindaco che rappresenta la prima porta a cui il cittadino va a bussare giustamente se sta male e l'Azzat è sempre trovato la porta aperta e vorremmo continuare che fosse così, che sia così in futuro, insomma le preoccupazioni sono sicuramente importanti, però al di là di questo si spera che il panorama e lo scenario nei prossimi cinque anni possa anche cambiare, quindi nel programma è stato poi inserito qualcosa di importante, di concreto per continuare nel progetto di quella Lazzate che noi abbiamo sognato e che già abbiamo cambiato e trasformato in questi venti anni. Ecco, i cittadini Lazzate sicuramente saranno curiosi di sapere cosa ha in testa la Lega e per quale motivo ha che chiede la fiducia per altri cinque anni per realizzare cosa di nuovo nel borgo di Lazzate e nella nostra Lazzate. Sì, dunque, innanzitutto fra non molto cominceranno i lavori per la struttura polifunzionale, parcheggio di piazza Papa Giovanni XXIII, lì ci sarà la casa delle associazioni, verranno appunto, si sedieranno gli uffici del comune che sono fuori dalla sede principale, progetto ancora, diciamo, più grande, quello che per noi è un sogno, è quello appunto di poter allargare il nostro borgo, quindi di allargare questo salotto, sia, diciamo, la parte verso nord, da Piazza dei Caduti, scendendo fino al santuario della Madonna di Caravaggio e poi verso sud con Via Roma, con l'Argotria delle Nazioni, ecco appunto, quindi allargare questo salotto, renderlo bello, renderlo come è stato fatto per il centro. Certo, e da notare anche che non abbiamo dimenticato però laddove abbiamo iniziato, ovvero le periferie, perché nel 1993 la prima amministrazione Lazzate pose mano alle periferie per sistemare delle periferie che erano degradate, quindi qui il programma citato ha voluto avere un'attenzione particolare anche su quello, perché sicuramente dopo tanti anni dobbiamo ritornare a parlare anche di quello. Per concludere, direi che è un cenno anche alla situazione politica lazzatese, che vede solo una lista che contrapporsi alla Lega Nord, una lista che si chiama Lazzate in Comune, dove una serie di persone, personaggi che già in passato si erano più volte candidati contro la Lega Nord e si sono riuniti in questa unica lista. Vanno dicendo che hanno superato, avrebbero superato le loro ideologie accantonate seppur non rinnegate. Io ho chiusato qualche giorno fa in risposto proprio loro su Facebook dicendo, ho notato che le persone che sono sulla piazza della chiesa quando c'è stato il banchetto domenica scorsa, cioè quelle persone che erano lì erano le stesse che affollavano lo stesso banchetto riproposto nella mendesima posizione nell'ultima campagna elettorale che non è stata un secolo fa ma è stata a febbraio, quella delle politiche. L'unica differenza era che al posto delle bandiere di Lazzate in Comune c'erano le bandiere del PD, al posto dei manifesti di Lazzate in Comune c'erano i manifesti del PD. Mi domando quale sia la novità in tutto questo. Oltretutto si presenta un candidato, Giacomo Gregori, che già per tre volte si è rappresentato alle elezioni di Lazzate, una volta come candidato consigliere comunale ed è stato bocciato dai cittadini e due volte come candidato sindaco di centro-sinistra bocciato dai cittadini. Si ripresenta quella persona che ha rappresentato e incarnato anche una stagione di contrapposizione dura, quella che proprio loro dicono di voler terminare o superare andando al di là dei partiti delle ideologie. Ecco, l'operazione a me sembra un po' triste e con l'unico obiettivo di ingannare chi forse non li conosce, perché ripeto, è nobile voler superare questa stagione della contrapposizione che tra l'altro hanno alimentato loro in questi venti anni con insulti anche bassi sul loro giornale partito. Ora dicono di volerla superare candidando chi invece ce n'è stato l'attore e l'interprete. Questo è un po' buffo, ma io ho la sensazione che in questi venti anni in realtà la comunità è stata riappacificata, amministrata, si è ricreato proprio un sentimento di appartenenza alla comunità di Lazzate, proprio in linea con il programma e gli intenti proprio della Lega Nord fin dal 1993, quello di voler creare un sentimento di appartenenza, cioè di voler stringere tutta la comunità intorno all'amore per Lazzate che noi abbiamo promesso di cambiare e abbiamo cambiato in questi venti anni. Quindi forse sono loro che in tutto questo tempo sono rimasti fuori, si sono isolati e ora riuniscono tutti quelli che non ce l'hanno con la Lega o ripeto, sono stati, anzi si sono autoesclusi da questo processo di pacificazione. La domanda a Loredana, avendo vissuto parte di questi vent'anni, perché negli ultimi sette anni faceva parte della Giunta, se ha percepito questo scontro che viene dipinto dalla lista Lazzate in Comune o, come percepito io, ha vissuto più in un periodo di lavoro, di attenzione ai programmi e alle cose concrete da fare, in totale l'armonia con una comunità. Assolutamente no, io per sette anni ho fatto, sono stata assessore alla cultura, alla pubblica istruzione, ero in Giunta, per cui abbiamo sempre lavorato diciamo sempre insieme, non abbiamo mai avuto nessun problema. Dall'altro canto anche la gente sento che è molto, molto vicina a noi, apprezza quello che è stato fatto e devo dire che in sette anni, ad esempio in Consiglio Comunale, io non ho mai visto la minoranza proporre, la minoranza che poi sono ancora quelli che fanno parte di questa nuova lista, non hanno mai proposto un qualcosa di nuovo, oppure non lo so, un consiglio, un progetto, insomma non si sono mai sforzati di fare assolutamente niente. Mentre noi abbiamo sempre lavorato e devo dire abbiamo sempre lavorato tutti insieme, senza scherzi, senza problemi, la gente, torno a ripetere, io sento la gente e la gente ci è molto vicina. E poi devo anche dire che ho letto il programma di questa nuova lista e con tutta sincerità devo dire che non c'è cuore, non c'è cuore in questa lista, scusate, in questo programma. Invece il nostro programma si capisce che c'è il bene che noi vogliamo allazzate, vogliamo bene i lazzatesi e abbiamo veramente questo amore verso il nostro paese, questo attaccamento al nostro territorio, cosa che invece io non sento leggendo il programma della lista appunto di minoranza. Bene, bene, finisce qui la nostra chiacchierata informale con Loredana e che dire, l'appuntamento agli amici del mio blog ilmonti.com e nei prossimi giorni con nuove notizie, nuove interviste della nostra lazzate. Buona giornata a tutti!